E ragazzi per iniziare vi volevo dire che se questo video raggiungerà i 3500 mi piace In settimana vedrete già l'episodio successivo Detto questo, buona visione E ragazzi, ciao a tutti, come state? Io sono Axel ed era da un macielo di tempo che non vi portavo un video Che non sentivate la mia voce Anzi, no, vabbè, non è che era da un macielo di tempo perché alla fine dei video ve l'avevo programmati Ma ragazzi, io questi giorni non sono stato a casa Infatti, sono andato in gira con la scuola a Siena E, così, piccolo dettaglio, ho trovato a Siena gente che mi ha riconosciuto Quindi siete veramente fantastici Comunque, dico questo per dirvi che se non ho risposto in quest'ultimo tempo ai vostri messaggi Oppure ai vostri commenti, era appunto perché in gira mi mettevo via a rispondere ai vostri commenti Comunque la sono tornato e sono abbastanza carico Per iniziare però voglio dire un paio di cose Prima di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto Per mettere un bel mi piace E la seconda era questa Se volete potete iniziare a seguirmi sul profilo privato Il link lo trovate in descrizione perché vi dico ciò Perché magari alcuni video importanti io li condivido su quel profilo E ho notato che il numero delle persone che riceve il messaggio appunto dal mio profilo privato È maggiore a quello della pagina Facebook E questa è una cosa scandalosa Perché sulla pagina Facebook io ho 25.000 mi piace circa E un post arriva solamente a 2.500 persone E ciò è veramente imbarazzante Come nuova cosa da dirvi è che oggi siamo qui con un rotto glory Come avevo promesso cercherò di cambiare maglietta ogni tot di rotto glory Oggi abbiamo quella di Eden Hazard del Chelsea Molto carico Comunque ragazzi Ho già comprato un giocatore che è Marcos Roio del Manchester United Perché l'ho preso? Perché l'ho trovato ad un'offerta imperdibile Tipo a 950 di Brasi Lui costa tipo 1.500 Quindi ho fatto veramente un affarone La squadra è questa Direi che siamo carichi Direi già di andare a giocare la prima partita Magari mettendo prima Roio No comunque ragazzi sono abbastanza carico adesso che siamo tornati Riniziamo a macinare un po' tutto Però voi ecco lasciate un bel mi piace Che io sono carico Dovete essere anche voi Quindi lasciatelo anche voi E detto questo Andiamo a vedere il primo sfidante di oggi Che squadra utilizza Krishna Alla faccia 4-3-2-1 Della Liga BBVA Mista Ha una sorta di Premier Sarà dura come sempre Ma noi cercheremo di dare il massimo E ragazzi poi colgo anche l'occasione Per chiedervi O meglio per sì per dirvi di consigliarvi nuove serie Che adesso ne inizierò alcune abbastanza belle Ma se comunque voi avete idee Fatemele sapere scrivendo un bel commento Questa punizione è da sfruttare È da sfruttare Sorridiamo che gli stiamo facendo una foto Dio Santissimo Giudeo No Ehi Ehi dove va No eh No eh No Poi la giunta No non va bene ragazzi Stiamo già perdendo 1-0 al venticinquesimo Male male Quanto si fa sentire l'infortunio di Brighton Ragazzi Quanto Fellaini Ottimo Dai 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 Bravissimo Pulsani Vai così No perché Ragazzi Kaiser Kaiser No Acciuarro Che nome bello No Ehi 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 Attenzione Attenzione No No Male 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 Malissimo Male 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 Malissimo Si ma stiamo Scherziamo dei gol simi No Caspita 2-0 ragazzi Pici mod Noi la aspettiamo Adesso la devo mettere Dai Pulsani 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 E non è rigore No ragazzi Non ho parole No vabbè Questo è meglio Che cosa Pulsani Pulsani Dai 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 Sì E c'è ancora Il gol Ragazzi Ci crediamo Il morale è ancora su 2-1 a 6 Anche Pulsani 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 Il cavallo Se faccio Pulsani Madonna Il cavallo No Non è possibile No questa partita È da perdere ragazzi Mi spiace Dirlo Eriksen Vediamo Dove va il tiro Rosso Per lui All'ottantatresimo No ragazzi Non è più abituato Dai Ovviamente Ti prego Ti prego Ti prego E' Segui Ericksen 2-2 all'ottantaquattresimo Ma che gol ha fatto Andiamo così Vediamo 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 Ti prego Ti prego Ti prego No 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci posso credere Ragazzi Perdiamo No Mi dispiace troppo Per questa partita E' E' Andiamo Così Mazzuai Buono Non è Bessa Dai 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 Non avevo Temo Ma va Vento Dai 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 Mazzuai No Ma Dio Santo Andavo E che pale Ragazzi Pareggio Ma questa Ritera Stravincere Dio Santo 12 tiri a 7 7 tiri in porta a 3 Ma noi pareggiamo Va bene Ragazzi Adesso mi finisco La difesa Perché ho visto Che abbiamo Dei buchi Paurosi Quindi Ho appena preso Smalling a 1000 E adesso andrò a vendere Naldo e Benaglio Naldo lo metto all'asta Per 1300 Mentre Benaglio Farà i 700 E dopo averli venduti Ho fatto Un'offerta Al terzino Dell'RB Lipsia Tegl Che tipo Se non mi sbaglio Dallo scorso Era Ala Quindi c'è stato Un cambiamento Pauroso E l'ho comprato A 1500 Quindi adesso Andiamo a metterci Il rosa E andiamo a cercare Il secondo sfidante E ragazzi Ci manca solo il portiere Poi abbiamo concluso La squadra Credo che sia venuta Una bella cosa Ma non diciamo gatto Se non l'abbiamo nel sacco Quindi andiamo a vincere Andiamo a vincere una partita Andiamo a vincere una partita Andiamoci a comprare Partire Poi possiamo parlare Secondo sfidente di oggi 85 di valutazione Mamma mia Nei Mardiego Costa Pietro Mamma mia Questo è un fenomeno Aia Bravissimo Accuarro Accuarro Che la mette così Noi Non possiamo Essere così sfortunati Però Mamma mia E abbiamo già preso Gol Perdiamo 1 a 0 E' proprio meglio Prendere il palo Poi contro più Dell'avversario Gol Ci sta E andiamo così Kaiser Subito all'ottavo minuto Fa i diai conti 1 a 1 Dai Bravissimo Vai Eriksen Eriksen Fa gol 2 a 1 Il diciassettesimo Buonissimo Così ragazzi Stiamo iniziando a massinare Sul serio Così 3 a 1 Eriksen Ancora Lo stiamo Annichilendo Buono così E intanto Un altro giocatore Si fa male Vabbè No Rigore Dio santo Ma ha spiazzato Oh mio dio Eriksen Scatenato E' trick per lui 4 a 2 Alla Buono Salutiamo il nostro sfidante Che se ne va E ragazzi Abbiamo vinto anche questa seconda partita Ne faremo lentieri un'altra Ma mi sa che devo andare Infatti si Facciamo così Facciamo così Se questo video raggiunge I 3500 Mi piace Prossimo episodio Tre partite Onesto Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Non mi sembrano altre cose da dirvi Quindi Niente Detto questo Vi saluto Vi dico Prenda pazza Nel prossimo video Ciao a tutti